buongiorno e bentornati sul mio canale oggi vi presento il progetto che praticamente è un cardigan scialle che ho presentato ieri questo doveva essere un progettino per dicembre però visto che qualche sera fa flavia nella pagina sua merceria flavia ha fatto la dire una live presentando il filo perfetto che sono gomitoli da 50 grammi per 133 metri è un agrilico di alta qualità molto molto morbido e ci sono tantissimi colori questo filato inoltre è in offerta ma non è sul sito quindi io sotto il tutorial vi metto sempre il link di riferimento per andare a curiosare tra i filati quelli che ci sono e quelli che acquisto sempre io però perché è interessata deve scrivere o su whatsapp o sul su messenger a flavia ripa ci sono tantissimi colori io ho visto che stiamo andando verso il natale ho voluto prendere il rosso e me lo sono fatto inviare subito perché avevo intenzione di fare questo progettino che qualcuna di voi già conosce perché perché feci una live tempo fa però purtroppo le live che si fanno nei gruppi rimangono nei gruppi e non tutte le possono la possono vedere e siccome mi sono resa conto che è stato un progetto che ha avuto molto successo l'ho voluto rifare sul mio canale youtube in modo che possono accedere tutti poi di come ripeto visto che andiamo verso il natale me ne ho realizzato uno rosso che indosserò proprio sotto le feste è un progetto molto comodo alla portata di tutte e che chiunque può realizzare anche le principianti perché è un cardigan che parte come uno scialle quindi ormai lo scialle ben o male lo sappiamo fare tutte il punto granny lo sappiamo fare tutte e quindi ve lo volevo riproporre proprio perché ha avuto molto successo io come avete visto dalle foto già l'ho realizzato l'ho lavato l'ho indossato è morbidissimo non so se si riesce a vedere dalla telecamera ma è molto molto morbido questo filato anche se è come ripeto un acrilico cento per cento di alta qualità è morbidissimo ve lo faccio vedere su un campione più che altro per farvi vedere poi la struttura perché lo scialle si parte dalla punta con gli aumenti e pian piano si cresce per la mia misura che io sono sempre una 46 barra 48 ho acquistato due pacchi in offerta per un totale di 500 grammi e del colore rosso siccome ci sono due tonalità di rosso una tonalità più calda e una tonalità più fredda io ho scelto quella più fredda però poi ci sono altri colori quindi ognuna di voi potrà scegliere il colore che preferisce di più come ripeto sono gomitoli da 50 grammi per 133 metri purtroppo ho buttato l'etichetta quindi non me la posso far vedere e si lavora con uncinetto del numero 4 però io ho approvato sia il 4 che quattro e mezzo e mi sono trovata bene con il quattro e mezzo come vi dico spesso diciamo le indicazioni dell'etichetta sono soltanto indicazioni però poi voi dovete provare varie varie misure di uncinetto per vedere qual è il migliore per la vostra mano per me è stato l'uncinetto del numero 4,5 quindi detto questo possiamo iniziare con il tutorial come ripeto faccio un campioncino per farvi capire la struttura se siete pratiche fate il cerchio magico a me non piace molto il cerchio magico quindi farò delle catenelle e farò 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 che poi chiuderò in cerchio con una maglia bassissima quindi in questo modo ci alziamo con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta poi cosa facciamo io mi nascondo il anche la godina rientro e faccio altre due maglie alte quindi una e due poi faccio 2 catenelle rientro e faccio altre tre maglie alte quindi una 2 e 3 e abbiamo fatto il nostro primo giro poi cosa facciamo io mi alzo con quattro catenelle rientro alla base e faccio due maglie alte questo il nostro aumento una e due una catenella nell'archetino delle due catenelle facciamo tre maglie alte quindi una 2 e 3 poi due catenelle rientriamo e facciamo altre tre maglie alte quindi una 2 e 3 poi facciamo una catenella carichiamo il filo andiamo nelle nella terza delle 3 catenelle iniziali e facciamo una 2 la terza maglia alta non facciamo la classica maglia alta ma bensì la maglia alta doppia così ci viene più lineare quindi rientriamo usciamo da due usciamo da due usciamo da due quindi la parte alta del dello scialle mi viene non vi viene curva praticamente quindi adesso ripartiamo con quattro catenelle 3 e 4 carichiamo il filo voltiamo il lavoro rientriamo alla base e facciamo due maglie alte quindi una e due io ho scelto questo punto granny che è un po alla portata di tutte però questo progetto si può realizzare con qualsiasi scialle praticamente perché il progetto parte da uno scialle quindi non è detto che dobbiate fare per forza il punto granny io ho scelto questo per le per soprattutto per le principianti quindi chi è molto più esperta di me può scegliere tranquillamente un altro punto e farlo a proprio gusto tornando a noi abbiamo fatto la catenella entriamo nel l'archettino di una catenella e facciamo il gruppetto di maglie alte quindi una 2 e 3 una catenella andiamo nell'arche nell'archettino delle due catenelle catenelle e ripetiamo l'aumento quindi 1 2 e 3 2 catenelle carichiamo rientriamo altre tre maglie alte quindi una 2 e 3 1 catenelle andiamo nell'archettino di una catenella e ripetiamo il gruppetto di tre maglie alte quindi una 2 e 3 una catenella andiamo nella quarta delle catenelle iniziali e e ripetiamo le tre maglie alte quindi entriamo prima maglia alta seconda maglia alta sempre nello stesso punto carichiamo il filo due volte e facciamo la maglia alta doppia quindi 1 2 e 3 quindi andando avanti in questo modo lo scialle cresce praticamente la punta e si allarga fino ad arrivare alla vostra misura io per per la mia misura sono arrivata a praticamente questa larghezza è di un metro e 68 centimetri quindi per ogni taglia in più dovete aggiungere più o meno dai 8 ai 10 centimetri in più quindi per la mia taglia 46 48 ho preso due pacchi quindi mezzo chilo di filato 500 grammi per ogni taglia in più dovete acquistare un gomitolo in più adesso io faccio qualche altro giro per ingrandire il campione e vi faccio vedere la costruzione allora io ho fatto qualche giro per farvi vedere la costruzione andando avanti con i giri voi dovete fare il riferimento a questa misura che come ripeto per me per la mia taglia 46 barra 48 è di 168 cm c'è un metro e 68 per ogni taglia in più aggiungere dagli 8 dai 8 ai 10 centimetri altrimenti non vi scende bene quindi una volta che voi avete raggiunto raggiunto la vostra misura cosa dovete fare dovete piegare il progetto in questo modo così una volta che avete piegato i due lembi dovete lasciare 16 centimetri per lo scollo e dovete cucire 10 centimetri per la manica praticamente una volta che avete cucito i 10 centimetri sulla parte destra 10 centimetri sulla parte sinistra che cosa potete fare io personalmente ho scelto di lavorare a ferro di cavallo nel senso che sono partita dalla punta e ho lavorato a giri di andata e ritorno per tutto lo scollo e la parte avanti facendo un giro di punto alto all'andata e un giro di punto basso al ritorno così i righe di punto alto mi vengono tutte dal dritto mentre nel nei due dove abbiamo cucito i 10 centimetri ho lavorato in questo modo partendo sempre dalla punta passando sulle maglie lavorando un giro di punto basso come rifinitura e poi un giro di punto gambero sulla parte avanti io adesso chiudo e vi faccio vedere che cosa intendo per le rifiniture allora questo è un campioncino quindi è piccolino quindi come ripeto lasciate i vostri 16 centimetri per lo scollo uscite i 10 centimetri in questo caso vi rimane praticamente la manica da un lato e dall'altro quindi avete cucito la struttura praticamente poi che cosa ho fatto da questa parte dove ho cucito tutto intorno con questo modo ho fatto un giro di punto basso e basta mentre per la parte davanti ho ripreso il filo ho fatto un giro di punto basso facendo due maglie basse per ogni asticella della maglia alta soltanto a quella iniziale dove facevamo la maglia alta doppia ne facciamo tre di maglie basse quindi una due e tre mentre nelle altre ne facciamo due quindi due maglie basse in ogni asticina una e due per tutto il perimetro della maglia della del cardigan e diciamo quindi due maglie basse per ogni asticina della maglia alta e facciamo questo fino ad arrivare all'altra punta scusate mi correggo all'andata il punto alto al ritorno il punto basso mi sono un attimino confusa in questo caso facciamo tre e due maglie 2 catenelle voltiamo il lavoro per il giro di per il giro di punto alto praticamente io ad inizio giro faccio sempre due catenelle volto il lavoro rientro nella prima maglia e faccio una maglia alta e a me questo mi equivale come prima maglia alta e lavoro la maglia alta punto su punto ripeto all'andata il punto alto al ritorno il punto basso io ho confuso un attimo i giri ma poi decidete voi se diciamo per rifinire quale punto volete utilizzare perché io ho preferito la maglia alta e la maglia bassa però voi potete anche fare il punto venni anche sulla rifinitura non è un problema lo deciderete voi quindi una volta poi fatto il bordo quindi io termino il giro e poi ci rivediamo per farvi vedere il punto gambero adesso vi faccio vedere come ho fatto io il punto gambero che può essere una rifinitura diciamo carina anche per progetti diversi da questo quindi io la vuoi il punto gambero si lavora in questo modo facciamo la catenella torniamo indietro e facciamo la maglia bassa poi andiamo in questo modo sulla maglia successiva agganciamo usciamo e chiudiamo entriamo nella maglia successiva in questo modo è una rifinitura carina da fare anche in altri progetti quindi come ultima come rifinitura io ho fatto questo semplice punto gambero perché punto gambero perché si lavora all'indietro quindi entriamo carichiamo il filo usciamo e chiudiamo entriamo nella maglia successiva carichiamo e chiudiamo quindi andate avanti in questo modo per tutto il giro ecco qui il campioncino terminato quindi come avete visto non è un progetto per niente difficile quindi alla portata di tutte poi alla fine io ho deciso di fare la rifinitura col punto gambero anche nella parte inferiore quindi ho fatto tutto il perimetro fino all'altra punta e il punto alto per la parte avanti quindi mi raccomando spero come dico sempre di avere fatto di avermi dato uno spunto di esservi stata di aiuto per un nuovo progettino se vi è piaciuto regalatemi un like e magari una visualizzazione completa e vi lascio tutti i link di riferimento sotto al tutorial l'unica cosa che vi ricordo questo filato acrilico 100 per cento che si chiama perfetto non è sul sito www.merceriaflavia.it ma bensì dovete scrivere per chi è interessata alla signora flavia ripa o su whatsapp oppure su messenger il suo numero whatsapp lo trovate tranquillamente o sul sito o sulla pagina un'altra cosa che vi raccomando io personalmente vi posso garantire il risultato del progetto con i filati che utilizzo io per altri tipi di filati non posso garantire quindi detto questo vi auguro una buona giornata un buon fine settimana e vi rimando vi rimando ad un prossimo tutorial ciao a tutte e grazie per avermi seguita